Comunicazione diretta con il Comune a portata di chat. Apre a Fontaniva il nuovo servizio WhatsApp. Digitando il 329 2794 487, ogni cittadino potrà segnalare in tempo reale qualsiasi tipo di problema. Viceversa, anche il Comune potrà avvisare i cittadini che decideranno di aderire al servizio problemi ed emergenze. Per iscriversi basterà inviare un messaggio al numero 329 2794 487 con la richiesta di attivazione, autorizzando così il Comune di Fontaniva a trasmettere informazioni via WhatsApp. Per le segnalazioni che saranno indirizzate agli uffici competenti sarà necessario inviare un recapito telefonico o un indirizzo mail.